Però... puoi registrare qualcosa di utile o no? Ora, aspetta, ma ora lui dirà... Vai a fare in gulo, stronzo? Giusto, ticca. Tanto solo qua lo sai dire. Ti ha insegnato tre parole. Cosa? Ma almeno sai parlare. Dai, thank you. Dai, thank you. Sì. Puoi dire qualcos'altro? Puoi parlare solo attraverso un computer. Dai, thank you. Uh-huh. Dai, thank you. Eh, poi... Sai dire se lo parlo? Sai dire se lo parlo? No. Eh? Ma sai parlare o hai bisogno di qualcuno che... che aiuti? Sì, basta. No. No, ragazzi, basta. Ragazzi, io esco. Mi ha chiamato una figa. Per uscire ora. Oh, madonna, basta. Oh, oh, poi ce la presento, questa pare. Sì. Sì. Un'embracchione. Cosa? Night, night. Eh? Questa qui ha fatto la modella due anni. Eh, ma c'ha quanti anni ha? Uno più di me. Allora... 18. You are a stupid strange. Sì. Giornata più culata non l'ho mai avuta di oggi. Perchè mi è arrivata una moto nuova, ora è sconquistata. Dai, felinculo, stronzo. Mh, guarda che nessuno ti sta cagando, eh. Non sa neanche parlare, quindi che cazzo vuoi? Stai zitto, sai dire solo tre parole. Vai, fai un culo. Sì, sai dire solo qualsiasi? Sì, sai solo qualsiasi? Eh? New player. Eh, sai, sì, subi nero. Ma che cazzo dici? Mangolo! 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 Con doppia M! Mangolo! Cazzo manco ha M maiusco, non so, no?